Dopo la partita, ritorno a parlare in italiano. Buongiorno, ben trovati. Iniziamo la conferenza stampa. Serafini, Roma. Buongiorno, mister. È iniziato un periodo molto intenso, si gioca praticamente ogni tre giorni. Come ha trovato la squadra dopo l'Europa League, anche a livello fisico? La squadra sta bene, sta motivata, sta bene fisicamente. Obviamente, abbiamo avuto la vantaggio di poter cambiare alcuni giocatori. Per questa partita, ovviamente, ci saranno alcuni giocatori che non avevano la partita precedente. Non abbiamo molto tempo per recuperare, ma la squadra sta bene a tutti i livelli. La squadra sta bene fisicamente, è motivata. Abbiamo avuto inoltre il vantaggio di poter cambiare dei giocatori nell'impegno di Coppa e quindi per questa partita giocheranno alcuni giocatori che non sono stati utilizzati. Senzi, Roma Radio. Mister, questa è la prima gara in trasferta contro una squadra tra le più in forma, in campionato. Quali insidie nasconde la partita col Bologna? È un excelente testo alle nostre capacità. La squadra è molto forte. La squadra è molto forte, ha 3 vittoriasi e 1 empate. È al topo della classificazione. Ovviamente, c'è una squadra che è motivata, con excelente giocatori. che interpretano bene quello che è il spirito del suo treinatore. Sì, abbiamo avuto un buon testo alle nostre capacità in questo gioco. È un gioco difficile, di sicurezza assoluta, ma sento che siamo preparati per questo grande gioco. È un testo eccellente per misurare quali sono le nostre capacità. Affrontiamo una squadra molto forte, il Bologna, una squadra che è in testa alla classifica, che è imbattuta, che ha tenuto soltanto vittoria e un pareggio. È una squadra molto motivata, con giocatori molto buoni. È inoltre una squadra che riflette il carattere del proprio mister. Sarà con certezza una partita molto complessa, ma noi siamo sempre pronti per questo genere di partite. Fonseca, abbiamo visto la Roma con due mediani davanti alla difesa, con i turchi l'abbiamo visto con un regista più classico di Avarà. Io le volevo chiedere che nel suo sistema di gioco è meglio giocare con un regista o meglio giocare con due mediani? E in questo senso se la coppia cristante-Vertù in questo momento è quella che dà più garanzie? Sì. 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 Sempre riguardo a questa questione che ci stavo riflettendo. Sì. 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 Mkhitaryan è un giocatore che sta bene fisicamente, è arrivato in eccellente condizioni fisiche, del resto era un giocatore che aveva giocato anche con l'Arsenal. quello, per lui, quella contro il Sassuolo è stata la prima partita e abbiamo avuto poche occasioni per allenarci insieme dal suo arrivo. Ritengo che, malgrado abbia fatto già una buona partita contro il Sassuolo il suo margine di miglioramento e di crescita è ancora notevole. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti. E' un'hmm. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In Lever Cup abbiamo visto in questi giorni un filmato in cui Nadal e Federer parlano con Fabio Fognini e gli dicono basta negatività, basta pensiero negativo. Volevo sapere se anche nel calcio lei lavora su questo aspetto, se ha trovato un po' di negatività quando è arrivato qui a Trigoria nel gruppo e cosa ha fatto per cercare di cambiare l'umore della squadra che è evidentemente cambiato in pochissimo tempo. Siamo ancora molto inizio per fare un'avaliazione concreta. Ora, penso che questo passa molto dalla nostra forma di essere. Sono una persona positiva, otimista e tento passare questi principi, questa forma di essere per i miei giocatori. Ovviamente che deve essere sempre equilibrati, entender che ogni momento è un momento, che non è nelle vittorie che sta tutto bene, non è nelle vittorie che sta tutto male. Ma io credo che sia una persona positiva, ma io credo che sia una persona positiva, sono sempre ottimista. E ovviamente che questo, naturalmente, senza essere una cosa forzata, passa per i giocatori. Io credo che non crederemo sempre, è difficile conquistare qualcosa. E anche le piccole conquiste, se abbiamo una forma di essere negativa, pessimista nella vita, credo che le cose sono molto più difficili di conquistare. Ora, dovremmo essere sempre equilibrati in tutti i momenti. E io penso che questo è un gruppo che ha stato di una forma, all'inizio di questi pochi mesi, ha stato sempre di una forma aberta e positiva per tutte le situazioni. Siamo ancora soltanto all'inizio di questo percorso per fare una valutazione di questo genere. Però ecco, io credo che questo aspetto abbia molto a che fare con il nostro modo di essere. Io personalmente sono una persona positiva, ottimista, che quindi cerca di trasmettere questo ai propri calciatori. Ecco, detto questo, è importante restare sempre equilibrati, perché è evidente che nelle vittorie non necessariamente tutto vuol dire che va bene o viceversa nelle sconfitte che tutto vada male. Però ecco, questo riflette molto il nostro modo di essere e che poi questo messaggio passi naturalmente senza sforzo ai propri calciatori. Ecco, poi in generale, ecco, direi che nella vita, se non crediamo sempre in quello che facciamo, diventa difficile conquistare qualcosa. Se siamo negativi, se siamo pessimisti, tutto diventa più difficile da conquistare. Però ecco, è sempre importante il discorso dell'equilibrio. E questo è stato un gruppo, durante questi pochi mesi trascorsi insieme di lavoro, che si è sempre mostrato aperto e positivo in ogni situazione. Carboni, Centro Suono Sport. Buongiorno, mister. Ha parlato prima di situazioni dentro al campo. Affrontate due squadre, Bologna e Atalanta, che la mettono anche molto sul duello fisico, sull'aggressività. Le chiedo lei come filosofia, è uno che dice alla sua squadra di accettare il duello, oppure la pensa diversamente e la vuole impostare diversamente la gara? Sì, sono realmente due squadre che, dal punto di vista fisico, dal punto di vista del duello, sono molto forti. Sono due squadre che, in molti momenti, marcano l'uomo a l'uomo. Ovviamente, questo ha avuto anche la nostra attenzione, per farlo a percepire come è che ultrapassiamo queste questioni. e, come si è stato un'attività, come si è stato un'attività, come si è stato un'attività. nel momento dei duelli, come evitá-los, come gagná-los. Penso che l'equipa sta preparata per un gioco di questo tipo. Io ritengo che lo si faccia con la mobilitá, con la qualitá dei nostri giocatori. E questo è un aspetto sul quale abbiamo lavorato e ci siamo concentrati nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione. Ma evidentemente, oltre a tutto questo, serve anche essere poi forti e ben presenti nei duelli fisici, far fronte e tenere testa a queste squadre anche da quel punto di vista. Credo che la squadra lo sia pronta. Grazie mille. Grazie mille. Da di ora lo mettiamo titolare, mister. Vediamo domani.